Gocce Arix Slenderize, benvenuti in questo importantissimo video sulle gocce giorno e notte Arix da Riccardo Di Gasparro. Allora, stai vedendo qui sullo sfondo un pdf ufficiale aziendale con una spiegazione in breve di queste gocce, che adesso ti spiegherò. Entriamo un attimo, andiamo al centro del nucleo insieme. Allora, innanzitutto le gocce giorno e notte sono queste, sicuramente già le hai viste perché stai qui, se sei qui a vedere queste video è perché quantomeno ne hai sentito parlare, sono queste qua. Queste sono le gocce notte e queste sono le gocce giorno. Come si usano le gocce Arix giorno e notte? Molto semplice, le gocce giorno vanno prese tre volte al giorno, 15-20 minuti prima di colazione, pranzo e cena. Le gocce notte si prendono prima di andare a dormire. Se si ha difficoltà a conciliare il sonno, anche un'oretta prima è indicato prenderle perché aiutano a rilassarsi, promuovono una sensazione di rilassamento. Poi, una cosa molto importante, tutti i nostri clienti che ci chiedono informazioni sul programma Slenderize, che iniziano il programma Slenderize, prendono le gocce Arix giorno e notte e anche il Vinali. Questo è un altro integratore alimentare naturale, tutti i prodotti Arix sono naturali 100%, ok? Davvero straordinario perché dentro ha la qualità di vinacciolo migliore al mondo, rigorosamente made in Italy, un prodotto davvero straordinario. Altra cosa importante che sicuramente ti interessa sapere è se inizierai con me il programma Slenderize, mi chiederai delle informazioni seguendo quello che trovi scritto qui sotto nella descrizione di questo video. Poi ti darò anche il PDF ufficiale del programma alimentare Slenderize con tutti i cibi consigliati, quello che ti puoi mangiare, che è consigliato mangiare di qua e di là. Quindi ti darò tutto e ti farò ovviamente anche assistenza post acquisto. Noi ci teniamo tanto a dire questa cosa perché seguiamo alla perfezione ogni singolo cliente che intende raggiungere obiettivi di perdita peso, ok? Perché è importante come cosa, bisogna prendersi sul serio e noi ci teniamo in modo particolare. Ti inserirò anche in tutti i nostri gruppi Facebook, insomma ti darò il massimo dell'assistenza. Vediamo un attimo insieme queste gocce giorno e notte velocemente. Allora, aiutano il metabolismo, come puoi vedere qui da questo PDF, quello è il secondo PDF che ti faccio vedere tra poco. Allora, aiutano il metabolismo, aiutano a sentirti più forte e potente perché di solito quando si perde grasso, si sta dietro, si è un po' fiacchi. Le gocce non aiutano a sentirti fiacco perché stai perdendo peso, ti aiutano invece a sentirti forte. Aiutano anche il discorso della digestione, come puoi vedere qui dal PDF, migliorano il tuo equilibrio grazie a ingredienti all'avanguardia e un approccio semplificato alle difficoltà comunicamente associate alla perdita peso. C'è scritto qui, come puoi leggere, ritroverete l'equilibrio corporeo e potrete ottenere un successo duraturo. Aiutano a perdere peso e per questo esiste appunto il programma Slenderize. Grazie ai suoi ingredienti naturali ma efficaci e scientificamente provati per combattere i numerosi fattori deterrenti per la perdita peso, il programma Slenderize offre risultati reali e duraturi, aiutando a controllare l'appetito, frenare le voglie e accelerare il metabolismo. Come puoi vedere è indicato e spiegato anche qui. Questa è una cosa importantissima, tantissimi nostri clienti, siamo via in seppi, ci dicono che appena iniziano ad utilizzare le gocce Arix giorno e notte, sentono proprio che le loro voglie vengono placate. Sentono proprio un maggiore equilibrio, non so se ti sei mai svegliato, se ti sei mai svegliata di notte in preda al panico che ti vuoi mangiare tutto il frigorifero, magari dolci o salati, ecco, con le gocce giorno e notte Arix, questi problemi, insomma, aiutiamo le persone a non avere questi problemi. Le gocce Arix ti aiuteranno tanto in questo. Poi un'altra cosa importante che volevo farti vedere, che sicuramente ti interessa, le domande frequenti sulle gocce giorno e notte Arix, programma Slenderize. Allora, a cosa servono le gocce? Qui te l'ho ingrandito perché puoi così bloccare questo video e guardarti tutto con calma. Insomma, ti viene spiegato tutto. Posso continuare a usare le gocce dopo aver perso peso? Questa è un'altra domanda molto importante che fanno tutti. Dipende da te, qui c'è scritto, la scelta è solo la tua. Posso bere caffè e bevande con caffina mentre uso le gocce giorno e notte? Assolutamente sì. Posso prendere le gocce giorno e notte se sono allergico a uno degli ingredienti e se sto assumendo dei farmaci? Se si hanno delle allergie o si stanno assumendo dei farmaci, ovviamente è sempre meglio consultare il medico. Stesso identico discorso anche per il discorso di allattamento o comunque in condizione medica particolare, è sempre meglio consultare il medico. Ovviamente se mi chiederai informazioni e hai queste problematiche ti invierò i pdf con tutti gli ingredienti e che potrai far visionare tranquillamente al tuo medico curante. A cosa servono le gocce notte? Insomma, viene spiegato tutto. Qual è il dosaggio raccomandato delle gocce giorno e notte? Agitare prima bene dell'uso? Agitare bene prima dell'uso? Ma che sto dicendo durante questo video? Faccio degli errori assurdi, comunque li lascio perché è anche divertente. Prendere 15 gocce 0,7 ml 20-30 minuti prima di curazione, pranzo e cena, come ti dicevo, per le gocce giorno e le gocce notte 2 ml. C'è proprio una pipetta. Tutte e due hanno questa pipetta. Va bene, quindi queste sono le informazioni sulle gocce Arix giorno e notte. Come puoi vedere, persone vere, risultati veri, siamo pieni di testimonianze. Ok? Che dirti? Da Riccardo Di Gasparro è tutto, se vuoi acquistare le gocce giorno e notte, vuoi iniziare il programma Slenderize, mi raccomando, guarda, leggi quello che c'è scritto qua sotto nella descrizione di questo video, perché ci sono tutti i passi da seguire per metterti in contatto con me. Da Riccardo Di Gasparro è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!